Più di 2.300 bambini tra 0 e 6 anni di età verranno accolti quest'anno nei servizi educativi comunali e in quelli accreditati. Nella primissima infanzia, 27 servizi a gestione diretta del Comune di Palermo riceveranno 928 bambini, di cui 892 nei 25 esili nido, 18 nel Centro Palagonia per Bambini e Famiglie e altri 18 nella sezione Primavera, rivolta alle bambine e ai bambini tra i 24 e 36 mesi. Inoltre, 120 bambini e bambine verranno accolti nei 9 nidi o micronidi accreditati. 130 circa i piccoli tra i 18 e 36 mesi, di cui si prenderanno cura gli spazi gioco accreditati nelle stesse strutture comunali. Anche quest'anno sarà attivato a gennaio il servizio di prolungamento orario dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in previsione per 6 nidi. Sono 15 le scuole dell'infanzia comunali, con 41 sezioni, che accoglieranno 1.229, 689 iscritti e 549 riconfermati tra 3 e 6 anni. Le scuole riapriranno dal 5 all'11 settembre con attività di accoglienza, inserimento e le attività scolastiche saranno avviate definitivamente il 12 settembre. Nelle prossime settimane verranno aperte ulteriori strutture a gestione comunale per la prima infanzia. La scuola si conferma sempre più una casa comune per la nostra cittadinanza, ha detto il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Una casa comune al cui centro sono i più piccoli cittadini e le più piccole cittadine, portatori e portatrici di diritti, primo tra tutti quella da avere luoghi di educazione e socialità. Un'offerta diversificata che alleggerisce la lista di attesa e consente alla nostra città di dare una risposta di qualità molto elevata, ha dichiarato l'assessore alla scuola Giovanna Marano. Una risposta che ha il pregio di alimentare l'innovazione in ambito educativo per i più piccoli, coinvolgendo le famiglie nel progetto formativo e attivando l'intera comunità educante.